Il termine fumetto si riferisce alle nuvolette dei dialoghi. Le nuvole invece in cielo ci donano la pioggia. Ah, che si abbrattano con la manina. E creano i fulmini. Sono agglomerati di goccioline. Non ti vergognare di quello che fai. Di acqua liquida e piccoli cristalli di ghiaccio. Le correnti permettono alle nuvole di galleggiare, poiché le goccioline sono rarefatte. Ovviamente le correnti del vento. Le nuvole piccoline pesano quasi come 10 elefanti. Le correnti d'acqua, sai ridi? Le nubi alte sono più brillanti, quelle basse più cariche. Perché lo vedo che quando ti arrampichi un po' sulle nuvole... La butto sulla simpatia. La butti sulla simpatia, ma è giusto, ma infatti fai bene. Si pensa che il fumetto nacque negli Stati Uniti d'America, ma in realtà è molto più antico. Richard Outkolt nel 1985 crea Yellow Kid. Fu inventato appunto da lui che per primo usò le nuvole. Un bambino discolo, yellow, proprio come l'altro che dice oggi. Qualcosa ritorna. Andiamo a vedere l'altra mappa. L'arte un pestre invece è l'esempio più antico. Della Valcamonica, l'abbiamo vista. Guardiamolo subito. La seconda, grazie Reggia. Nella prossima un po' di storia. I normanni dal nord Europa verso la Francia, la Gran Bretagna, la Sicilia, un po' di tutto il mondo. La razza di Bayeux è proprio una produzione normanna, è questo grande tessuto che era un po' un fumetto, raffigurava la vita dell'epoca, avvenimenti anche utilizzando le parole. Nel 1968 in Italia le contestazioni studentesche utilizzavano anche i fumetti per veicolare messaggi sociali e politici. Personaggi molto esempi di questa tipologia di fumetti furono Api il Sovversivo, sempre a testa in giù, e Ciputi, che era un operaio di Altan. Api il Sovversivo era proprio a testa in giù per raffigurare diversi punti di vista, per sconvolgere la società. E' un ribaltamento proprio della società. Era un periodo proprio di scontri tra studenti e forze di polizia. Hai messo anche che si danno le botte in testa. Guardiamo l'ultima mappa, dai 10 secondi, dai. L'ultima mappa, la prof Baci ci parla dei giochi logici, il quadrato magico, il più antico e cinese, e poi il mito di Apollo e Dafne. Che ti ha conquistato. Tantissimo, sì, sì, sì. Emozioni forti. E il narra è la nascita della pianta. E a loro, andiamo avanti a questo punto. A domani. Bellissimo, bellissimo. Taekwondo anche. Bellissimo. Taekwondo. Alla tavola. Allora, facciamo così. Bravissimo, sei stato bravissimo come al solito. Ti do il 10 come al solito. Così, di default. No, non il 10 politico, il 10 vero perché sei bravo. Ah, ok, grazie. Allora, ci vediamo domani. Grazie Gabriele, mappe le potete trovare sempre su Rai Gulp, lo sapete, sulle nostre pagine social. Ragazzi, ho pochi istanti per darvi l'appuntamento a domani. E io stavo... Grazie a tutti.